Se Casale Monferrato nella giornata di lunedì è stata risparmiata dalla pioggia, nonostante sia caduta abbondante, così non è stato per il vento che ha iniziato a soffiare con violenza dopo le 22 e martedì mattina si contano i danni con un tetto di velto e il sollo di un'impalcatura in via Milano dove la circolazione è stata interdetta e dove è stata anche danneggiata la capote di un negozio di un'agenzia di onoranze funebri. Inoltre nel parco interno dell'ospedale Santo Spirito si è avuto invece la caduta di un albero, fortunatamente senza conseguenze per persone e cose. Criticità si sono registrate anche nel Valenzano, qui intorno alla mezzanotte è mancata nella frazione Monte, la luce e si è anche verificata la caduta di alcuni alberi, mentre a Pecetto di Valenza ancora nella mattinata di martedì mancava la corrente. Al mattino sempre di martedì la strada provinciale 64 tra San Salvatore, Monferrato e Valenza era percorribile con cautela per la caduta di alberi e intanto sulla colla si sono anche visti due lupi cecoslovacchi. Grazie.